Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel video delle pagelle di Sampdoria Juventus 1 a 3 una bella vittoria per la Juve poi andremo un attimino a parlare di quello che ho spiegato nel video di ieri che ho visto tanti non eravate d'accordo ma proverò a darvi anche la mia opinione per farvi capire un po' meglio quello che probabilmente avevo in testa ma non sono riuscito a tirare fuori a parole prima di tutto un mi piace a questo video è l'ultima domenica prima della Champions del ritorno contro Villareal quindi rilassatevi oggi ricaricate le batterie perché già da domani lunedì martedì mercoledì saranno tre giorni di full immersion all'interno della Champions League e per farlo scaricate OneFootball perché su OneFootball capiremo chi potrà effettivamente essere convocato e disponibile per giocare una partita da dentro fuori non si scappa eh la prima partita da dentro fuori della Champions e sono quelle cose che mi danno quell'energia quella carica quell'adrenalina in più un'ansia infinita ma questo è il bello secondo me anche di seguire il calcio e di fare una squadra in particolare Massimiliano Allegri sei e mezzo perché ribadisco secondo me la Juventus ha fatto la partita che doveva fare ha fatto una buona partita non un'ottima partita una buona partita normalissima in cui è riuscito a ottenere il massimo senza nemmeno doversi sforzare in una maniera incredibile ma questa è una cosa positiva questa a tre giorni dalla Champions League è assolutamente una cosa positiva non è una critica anzi è un percorso di crescita voi lo sapete come la penso secondo me al momento siamo una squadra da sei quando eravamo distanti dal quarto posto eravamo una squadra da cinque, cinque e mezzo perché la Juventus non può essere lontana da quelle posizioni invece la Juventus che è nelle prime quattro è un evento sufficiente da sei mercoledì abbiamo l'opportunità di alzare la sticella e di alzare nuovamente questo voto e andare tra la sei e mezzo forse anche verso il sette perché arrivare nelle prime otto d'Europa ragazzi ti porta per forza di cose sulla valutazione ma per arrivare nelle prime otto d'Europa e per prepararci a quella partita lì queste partite devono essere un allenamento anche a livello psicologico perché quello che vi dicevo ieri a me interessa che la Juventus dei Ligri rimanga dentro la partita a me interessa che la Juventus dei Ligri non rimetta in partita le avversarie qualcuno mi ha detto sì allora se la Juventus deve lamentarsi dei regali se la Juventus deve pensare che ha regalato delle cose alla Samp la Samp che cosa deve dire che ha regalato delle cose alla Juve sì ma attenzione la Sampdoria sta lottando per rimanere in Serie A per non andare a giocare in Serie B per non retrocedere, per salvarsi la Juventus mercoledì va a giocare per entrare nelle prime otto d'Europa quindi con tutto il rispetto se la Sampdoria fa degli errori e regala delle palle e gola la Juventus e regala dei gola la Juventus a me non me ne frega niente a me interessa che la Juventus invece arrivi in questo percorso di crescita ad essere matura a tal punto da non dover rischiare di fare come gli ultimi due anni in cui Bentancur dopo 30 secondi regala la palla agli avversari Scesni mette male alla barriera e prende gol che altro? Demiral che fa il rigore su Depay che poi trasforma queste cose qua, questi episodi questi imprevisti come li chiamo Allegri negli ultimi anni ci sono costati carissimi l'ultimo anno di Allegri, Cancelo che regala la palla cioè, ragazzi l'angolo di Delete che viene lasciato colpevolmente da solo non sono dettagli non sono dettagli sono quelle cose che fanno la differenza tra andare avanti in Champions e tornare a casa e nel momento in cui ti avvicini a questa partita secondo me la matita rossa va puntata su questi episodi poi la vittoria rimane un'ottima vittoria sono soddisfattissimo ho visto anche una Juventus che palleggiava di più ha tenuto la palla ha fatto 500 passaggi la Juventus che non è un numero terrificante la Juventus ha fatto la sua partita a Genova contro la Samp che era una squadra in salute in casa che col nuovo allenatore stava facendo molto bene però ribadisco noi mercoledì giochiamo alla Champions quindi bisogna accendere questa spia e fare in modo che le altre squadre non possano tornare in partita per errori tuoi se torneranno in partita perché saranno più bravi i più bravi saranno fantastici ci saranno i miei piedi faremo i complimenti agli avversari ma dato che la Juve di Allegri non è una squadra che regala le emozioni sotto il profilo del gioco a livello di divertimento non sei lì che dici wow fantastico la Juve di Allegri no la Juve di Allegri è una squadra proprio perché ha altre caratteristiche tra cui quella di non fare entrare dentro la partita agli avversari di distruggere sotto quel punto di vista di distruggere il loro gioco fare in modo che diventino inoffensivi e se tu ci riesci però poi regali la palla agli avversari e regali le occasioni agli avversari allora diventa un problema però la Juve ieri ha fatto una buonissima partita la partita di ieri presa singolarmente è una partita soddisfacente diventa una partita da analizzare nel dettaglio perché ha tre giorni dal dentro fuori dei Champions è quello che mi ha fatto dire quelle cose nel post partita ma non perché io non sia soddisfatto della partita addirittura che non sia soddisfatto del risultato cioè ragazzi io due etichette mi do Juventino e risultatista sono le uniche due etichette che voglio perché le altre proprio le lascio a chi di dovere Juventino e non me la toglierete mai è risultatista perché a me dà fastidio perdere anche le partitelle quando vado a giocare a calcio mi dà fastidio perdere le partite a briscola cioè sono cose che mi danno fastidio figuratevi se non mi dà fastidio vedere la Juve che fa altre cose diverse dalla vittoria quindi questo è sei e mezza Massimiliano Allegri secondo me la partita di ieri è stata gestita alla grande Scesni otto perché otto e forse è un po' esagerato non mi interessa dico otto perché nel primo tempo il boy di Candreva è la para di lato sempre nel primo tempo il missile di Scesni nell'angolino e si allunga la va a prendere il rigore che regaliamo perché è un regalo il rigore è quel dentro fuori la partita è incredibile perché ricordiamocelo se Scesni non para quel rigore lì la Sampdoria va sul 2-2 con quella punizione e vi giuro che la Sampdoria continuerà ad attaccare dopo il rigore e vi giuro che quella punizione entrerà lo stesso quindi è stato il vero e proprio crocevia della partita Scesni ieri ha fatto vincere la Juventus e non è la prima volta a che dico queste cose perché Scesni ci ha veramente tenuto a galla per quello che io vi dico non è la partita superativa la Sampdoria ha fatto quello che deve fare ha avuto le sue occasioni addirittura poteva pareggiarla nel primo tempo ha avuto due occasioni grosse eppure siamo andati avanti noi 2-0 perché? perché la Juventus Delegre brava anche a fare questo ma per quanto mi riguarda è sempre il solito ritornello questa squadra io ancora non la vedo pronta a gestire il risultato perché poi succedono queste cose ci sono dei piccoli momenti di blackout mi ricorda molto Benatia Benatia era un difensore incredibile poi in una partita aveva sempre quel momento in cui si spegneva la luce e Coulibaly ti faceva gol e vinceva 1-0 a Napoli e Ronaldo ti faceva gol perché Benatia faceva il rigore e Simiti faceva gol in rovesciata perché Benatia non marcava bene e te dicevi sì però Benatia ha fatto una partita fantastica tutto il resto la partita è perfetta sì però poi ci sono dei momenti in cui si spegne e regala le opportunità agli avversari ecco noi siamo una squadra Benatia siamo una squadra identica e meno male che Scesni ci sta tenendo a galla perché comunque la squadra il suo l'ha fatto poi ci sono dei momenti in cui basta surplus e vengono fuori gli avversari perché? perché gliela regali te e sono queste cose qua che vanno messi a posto ma meno male meno male che c'era Scesni ieri sera signori senza Scesni ieri sera torni a casa col magone e prepari questa partita qua con un po' di spappolo in più e con qualche consapevolezza in meno anche probabilmente quindi 8 a Scesni perché secondo me è stato un rigore parato vitale questo Delit Rugani e Danilo io ve li prendo tutti e tre insieme e ve li metto nel calderone perché quella di ieri è stato un 4-4-2 se vogliamo ma a tratti anche un 3-5-2 con loro tre che facevano i centrali difensivi e Artur che si abbassava molto e andava a formare il rombo difensivo per garantire e gestire la palla in maniera assolutamente ottimale perché avevi sempre praticamente due tre linee di passaggio differenti mi sono piaciuti mi piace questo tipo di interpretazione in modo da lasciare il corridoio a Pellegrini e non obbligare il Rabiot ad essere l'esterno ma semplicemente a farla a mezzala che è quello che gli viene meglio anche se poi ci arriviamo ma Rugani ragazzi Rugani sta facendo una stagione da applausi bisogna veramente fare complimenti a Rugani per la stagione che sta facendo perché io mi metto in prima fila sul carro di quelli che non credevano assolutamente in una stagione di questo livello di Rugani e dietro di me voglio vedere tante altre persone e non tutti i fenomeni che no io in realtà l'avevo detto no perché nessuno dava un euro quest'estate a Daniele Rugani anzi erano più le offese alla Juventus ad Allegri per voler la permanenza di Rugani invece Rugani veramente in questo momento c'è da dirgli bravo e fine c'è da dirgli soltanto bravo secondo posto De Litt che è sempre lui è sempre fa parlare di lui abbiamo già parlato dell'intervista che l'ha lasciato al The Guardian quindi andatevi a vedere io ormai ho finito gli aggetti per De Litt è sempre perfetto praticamente in ogni partita Danilo ieri 100 presenze con la maglia della Juventus capitano leader indiscusso uomo spogliatoio è capitano senza fascia al pari di De Litt questi sono gli uomini su cui dobbiamo rifondare e ricostruire la Juventus dei prossimi anni e sono felice e orgoglioso che Danilo vesta la maglia della Juventus ieri una Juventus brasileira una Juventus verde oro quindi tre centrali di difesa quindi due centrali di difesa e mezzo perché Danilo faceva sempre il mezzo ibrido un po' come faceva a compirlo bene partita da sei e mezzo partita solida sei meno invece a Pellegrini e sono penso stato anche un po' largo perché poteva meritare qualcosina in meno ma sapete come la penso Pellegrini a me sta convincendo nel giro di questa stagione che è la prima stagione alla Juventus questo veniva da due stagioni tra Genoa e Cagliari in cui giocava e non giocava con squadre che lottavano sempre per non retrocedere quest'anno si trova proiettato alla Juve nella prima stagione alla Juve non è titolare non è forse nemmeno riserva ci sono dei periodi in cui gioca tanto dei periodi che non vede il campo ma quando gioca il suo lo fa sempre poi deve migliorare molto nelle scelte Pellegrini arriva che probabilmente negli ultimi metri è molto frettoloso e quando deve girare palla invece è un po' lento ma sono cose che vengono col tempo passando le stagioni passando le partite con la maglia della Juve intanto quest'anno Pellegrini si sta facendo un tirocinio alla Juventus è in tirocinio alla Juve e secondo me lo sta facendo molto bene poi anche la partita di ieri secondo me non è stata impeccabile è appunto da sei meno perché ci sono diverse sbavature però benvengano questi ragazzi che arrivano si mettono a disposizione se non giocano stanno zitti se giocano fanno la loro partita poi gli errori fanno parte delle prestazioni questo non lo toglierà mai nessuno buono sei meno sei e mezza quadrado invece che è perfetto nelle ultime uscite veramente sta tornando il quadrado che noi tutti conosciamo che stavamo aspettando e che a un certo punto c'eravamo pure chiesti ma dove è finito quadrado perché questo non può essere assolutamente lui sei e mezza ancora una volta l'autogol che nasce dai suoi piedi dalla sua giocata quindi molto molto bene dai sei e mezza quadrado ritrovarlo in questo momento probabilmente è il top perché appunto non ve lo devo ricordare ancora una volta ma mercoledì c'è una partita rabbio 4 e mezzo così non va non sembrava neanche di averlo in campo ieri non sembrava nemmeno di averlo in campo credo che abbia toccato tre palloni e basta e va a procurare il calcio di rigore che sembra assurdo vero spiegare ma non è cartellino rosso nonostante rabbio fosse già munito perché il tiro non è diretto verso lo specchio della porta ma tocca la palla di mano e quindi viene giustamente dato il calcio di rigore sarebbe stato un errore grave speller rabbio in quel momento lì poi allegri si incazza perché lo stava già per sostituire paura eh max paura però rabbio ragazzo mio così non va bene così non va bene cioè già la partita era andata con il Villareal il gol che prendiamo va bene possiamo parlare della posizione di Elite possiamo parlare della posizione di Chiara di Desciglio però tu te lo lasci proprio andare ed è quello che vi dicevo prima avvicinandosi a queste partite bisogna alzarlo il livello di concentrazione non della prestazione di concentrazione e qua allegri cosa ci può fare qua allegri non ci può fare niente anzi allegri nel post partito gli è venuto fuori anche qualcosa di forse fin troppo onestro nei confronti di rabbio e cioè rabbio è pigro è pigro e poi dice forse non è nelle sue corde no rabbio è pigro ci sono alcune cose in cui rabbio è pigro e bisogna aumentare Adrienne Adrienne bisogna aumentare già a partire da mercoledì fammi una partita come si deve mercoledì ti prego e ti scongiuro perché la partita di ieri è da 4 e mezzo e rischiamo veramente di tornare a casa ad ammararsi con le lacrime per colpa di quella mannina truffaldina Locatelli 7 meno meno perché allora su Locatelli voglio fare questo discorso da quando non è più mezzala da quando non è più regista ma mezzala lo vedo meno nel vivo del gioco prima era catalizzatore di palloni tutti passavano dai suoi piedi era lui che gestiva la manovra per forza di cose decentrandolo spostandolo più sul centro-destra questo avviene meno perché Locatelli è meno dentro il campo quindi meno palleggiatore una mezzala moderna anche mi ricorda a Marchisio a tratti ieri fa anche l'assist se Locatelli non alza la testa non vede Morata non so come finisce quella partita perché poi la Samp va in milla all'ora e cerca il 2-2 quindi benissimo però lo vedo sempre un po' impreciso ultimamente in diverse aperture cosa che invece una volta gli venivano molto naturali perché magari da pivot da centrale aveva più visione di campo sulla destra e sulla sinistra adesso invece cerca di sventagliare da destra verso sinistra e tante volte questi palloni non vengono e anzi sono dei cambi campo che regalano il possesso alla Sampdoria poi magari ieri c'era Vento però l'ho notata più di una volta che quando gioca insieme ad Artur lui aumenta la sua posizione va molto in zona di rifinitura e anche ieri infatti ci mette lo zampino nel gol appunto con l'assist quindi diventa più presente negli ultimi metri e aiuta questo a sviluppare il gioco offensivo della Juventus per forza di cose ma lo vedo un po' più impreciso proprio perché diventa decentrato quindi anche qua proprio perché io credo in Locatelli e so per certo che Locatelli ha dei grandi margini di miglioramento secondo me questa cosa va migliorata però a partita di ieri parte due o tre incertezze è assolutamente da sette meno meno proprio perché ci sono queste cose da limare secondo me invece sette pieno ad Artur perché la crescita a livello tattico che ha fatto Artur è incredibile la cosa che mi ha sorpreso di più ieri è stato il senso della posizione di Artur ragazzi sempre 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 nel posto giusto perché è facile parlare di Artur per la fase di possesso palla lo vediamo tutti non la perde mai con sto culo basso baricentro basso non la perde mai cioè Artur è proprio fatto per gestire il pallone diverso è quando non è la palla è quando la deve recuperare lui è quando deve recuperarla di posizione cosa che faceva molto fatica a fare inizio anno e questa è stata una crescita incredibile che il ragazzo ha sviluppato perché ha iniziato a seguire gli ordini dell'allenatore e per un giocatore che è stato a tanto così dall'andare via perché Artur era tanto così dall'andare via quest'estate a gennaio vale come un acquisto nuovo vale come un nuovo acquisto io poi a un certo punto durante la stagione mi ero fatto una domanda ho detto ma l'Artur che tanto mi era piaciuto l'anno scorso compirlo ho sbagliato la valutazione sul giocatore perché l'anno scorso a me Artur piaceva tanto quest'anno non gioca mai ci sarà un motivo la risposta era semplice e cioè dopo l'infortunio non avendo fatto una preparazione aveva bisogno di tanto tempo per ingranare e capire che cosa gli chiedeva Allegri e oggi Artur è un giocatore insostituibile in questa Juventus e sta trasformando appunto Locatelli in un altro ruolo perché Artur lì davanti sta facendo il bello e il cattivo gioco fa tutto lui bene 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 bravi sia Allegri sia Artur Ken 6 e mezzo perché se andiamo sullo 0-2 quindi due gol di vantaggio all'intervallo tanto merito è di Moise Ken perché il primo gol nasce con una sua sponda molto bravo molto bene il rigore se lo procura lui molto bravo molto bene più tante altre giocate utili all'interno della partita questa è stata una delle prove più convincenti di Ken secondo me da quando è tornato alla Juventus e non ha fatto gol perché non è tanto il gol attaccante se fa gol benissimo deve fare gol attaccante ma se dentro la partita mi fa queste cose qui e quindi mi porta a segnare mi porta ad alzarmi mi trattiene il pallone mi gioca per la squadra sono cose importanti poi il gol arriverà sono sicuro che arriverà perché Ken da quando è partito titolare lo sappiamo ho fatto un video per parlarne quando parte titolare Ken praticamente fa sempre gol quasi sempre ieri non l'ha fatto ma l'ha fatto fare e questa è una caratteristica molto importante per un attaccante 6 e mezzo Morata 8 al pari di Cesni e faccio lo stesso discorso che ho fatto per Artur e per Ken per Ken perché quando l'attaccante non fa gol ma fa fare gol la squadra è molto importante e questa è la descrizione di Alvaro Morata poi ieri si è messo addirittura a fare gol ne ha fatti due il rigore che si procura a Ken e il cross di Locatelli che va a raccogliere gol sporco quello sull'assist di Locca ma non importa è gol come l'autogol degli altri vale esattamente come un gol per quanto riguarda il discorso di Artur invece è la stessa cosa che dicevo era un giocatore con un piede fuori dalla Juventus e quando ci sono dei giocatori con un piede fuori dalla Juventus non è facile rimetterli dentro il progetto e qua ancora una volta lo dico non lo nego lo sottolineo questa è stata una peculiarità una caratteristica una bravura di Massimiliano Allegri perché quando i giocatori hanno già la testa dall'altra parte prova a rimetterli dentro e ieri Morata te lo conferma ai microfoni di Dazon ti dice io prima di parlare con Allegri non mi sentivo importante per questa squadra Allegri mi ha parlato e mi ha fatto capire che per la Juventus sono un giocatore importante e questa cosa mi ha sbloccato e da quando è arrivato Vlaovic Vlaovic ha fatto 4 gol Morata 3 fatti eh non pugnette come diceva non mi ricordo neanche chi un comico di Zelig quindi per il momento Morata è dentro a Juve ho usato il titolo ci trascina Morata Morata trascina Juve la settimana scorsa per il gol con lo Spezia e vi dirò di più se Morata si carica a pallettoni mentre ci avviciniamo alle partite secche di ritorno in Champions League attenzione perché Morata è in Champions in queste partite qua e ce l'ha sempre detto con la sua storia è un giocatore che fa male chiedere a Liverpool chiedere a tutte le squadre che abbiamo affrontato Liverpool quando giocava con l'Atletico tutte le squadre che abbiamo affrontato nel 2015 14-15 quando siamo arrivati in finale di Champions credere a Real chiedere al Borussia chiedere al Barcellona stesso che prende gol in finale Alvaro adesso entra nel suo spot nel suo momento e se ci arriva carico per gli altri un problema che si sappia e invece dò 6 a Vlaovic che entra e fa il suo l'ho visto un po' appesantito devo dire la verità l'unica cosa che mi dispiace è che non abbia preso il giallo però qui si apre un discorso più profondo su Vlaovic perché da quando è arrivato Vlaovic non ci ha messo solo gol non ci ha messo solo prestazioni ci ha messo anche il fatto di innalzare le prestazioni degli altri appunto Alvaro Morata e ridare ad Alvaro Morata l'idea di essere Alvaro Morata e nulla più quindi 6 a Vlaovic ragazzi attenzione perché ci arriviamo nel momento migliore possibile nel modo migliore possibile a quella partita di mercoledì e lo sapete come la penso io non accetto il fatto di dover uscire poi so che c'è la possibilità di farlo ma Juventus bisogna vincere questa partita senza se e senza ma domani iniziamo a parlare di Champions Grazie a tutti